In base a quanto si è potuto apprendere nel corso della riunione di questa mattina dai soggetti rappresentativi delle diverse componenti delle attività marittime e virtuali, non si è ovviamente ancora in grado di definire le cause del disastro. Non si possono però escludere allo Stato diverse ragioni del sinistro. Tenete conto che le condizioni meteorologiche di ieri sera erano perfette, non c'era maltempo, non c'era vento e quindi erano le condizioni ottimali per poter svolgere in totale sicurezza le necessarie manovre. Le cause potrebbero essere la prima, possibili avarie di propulsione della nave, la seconda, eventuali problemi ai cavi di trazione dei rimorchiatori, eventuali difetti di accosto e o di velocità della manovra effettuata.